La facoltà di cui ero dotata. Molti anni fa, mentre ero assorta a fare i conti della spesa alla penna, che non riuscì più a controllare, scrisse da sola la frase «Per tuo padre è la fine» e due giorni dopo mio padre fu colto da ictus. Due mesi più tardi, quando sembrava in via di guarigione, scattai dalla scrivania all'improvviso gridando «Sento che sei morto, dammi un segno!» E l'aria della stanza si riempì delle note del waltzer triste di Sibelius, che mio padre seguiva spesso nelle sue crisi di malinconia. Guardai l'orologio per avere una conferma. Erano esattamente le 10.35. Qualche ora più tardi mi comunicarono che mio padre era aspirato alle 10.30. Con due anni di anticipo vissi la repentina agonia del mio compagno, preconizzando il giorno in cui sarebbe accaduta, e così fu. Che cosa pensai davanti a tanti fatti? Dubitai della mia sanità mentale e non compresi la facoltà di cui ero dotata. Mi limitai ad accantonare il tutto. Non sarebbe stato meglio che avessi approfondito quella realtà invece di sfuggirla? Ma il sé, nella struttura matematica della realtà, non ha ragione di esistere. Mi ostinai a ritenere una stranezza o una semplice coincidenza, anche la potenzialità paranormale della mia famiglia. Forse è solo ora che ho acquisito un po' di consapevolezza. Ho capito che cosa significa l'attrazione spirituale e la legge di affinità. I miei due figli sono dotati di una forte potenzialità, anche se sono collocati su due livelli spirituali ben distinti, e per entrambi questa potenzialità è da sviluppare ulteriormente. Se, per esempio, il nostro cerchio andrà avanti come auspichiamo, la medianità di Mario ci potrà regalare grandi fenomeni fisici. Ricordo le promesse iniziali dell'entità Isabella, che mai si esprime senza costrutto, ma basandosi solo sulla realtà dei fatti. Giuseppe, l'altro mio figlio, è dotato di una medianità diversa, che non include fenomeni imponenti, ma che trasmette insegnamenti preziosi, perché preziosa è la sua anima, incarnata in un involucro destinato a tante sofferenze che auspico sia in grado di vivere evolutivamente. Grazie. Grazie.